Episodio 5 di Angular, oggi vediamo il ciclo di vita di un componente. Allora, abbiamo detto che i componenti possono essere utilizzati in più parti diverse della nostra applicazione, ma soprattutto vi ho detto di come quando cambiamo pagina, tra virgolette la classica pagina fittizia, cambia il contenuto, quindi abbiamo dei componenti che vengono creati e distrutti continuamente. Quindi già capite come nel modo più semplificato il ciclo di vita di un componente è quando ne ho bisogno lo creo, quando non ne ho più bisogno lo distruggo. Quindi già potremmo avere questo ciclo di vita, nasce, fa il suo mestiere e muore, ok? In realtà è un po' più complesso di così e adesso lo vediamo. Quindi vado su browser e vi prendo questo bellissimo schemino che è stato fatto come risposta su Stack Overflow. Vi faccio vedere quello che è il thread ufficiale, giusto per questioni di source. È giusto dare il merito a Mansur, che l'ha fatto molto bello e rende molto l'idea. Non aveva senso rifarlo perché ha centrato in pieno. Allora, questo è il ciclo di vita di un componente e adesso poi lo vediamo effettivamente su Angular, ma questo è il discorso. Allora, innanzitutto abbiamo detto che abbiamo ng on init. Come potete vedere, ng on init, l'abbiamo visto, c'era già stato creato automaticamente da Angular non appena abbiamo creato il componente prova con l'angular cli, ok? Che cosa succede? Abbiamo visto che c'era anche il costruttore, quindi viene creato un nuovo componente, sì, che è una classe, perciò c'è il costruttore, come vedremo. Dopodiché viene inizializzato il componente. Subito dopo essere inizializzato il componente fa un controllo, quindi do check, fare controllo. Proviamo il caso che non c'è niente in questo controllo, si passa a ng after content init. Che cos'è il content? Il content è di base, per intenderci, il test, tutto ciò che è all'interno dei tag HTML, ok? Quindi si parla proprio di quel contenuto testuale, quindi non appena viene inizializzato il contenuto della pagina, va bene? Dopodiché, come vedete, il contenuto viene checkato, viene controllato, quindi prima viene inizializzato, anche qua vedete, in g on init, e poi viene fatto il check. Allora viene inizializzato il content, il contenuto del componente, e poi viene fatto un check. Dopodiché, abbiamo la stessa cosa ma per la view. La view, altro non è che la parte effettiva, diciamo così, i componenti che noi vediamo, non è solo il testo, ma è tutto il resto della pagina, ok? Utilizzate questa divisione, dovrebbe risultare facile, quindi il testo è la prima cosa che viene mandata a schermo, la view è quello che è il risultato finale, ok? Dopodiché, la view viene anch'essa controllata, e il componente sta lì, va bene? Il componente sta qua, fino a che noi non lo distruggiamo, magari cambiamo pagina, in questo caso viene distrutto. Ritorniamo su questa pagina? Si ripassa a fare lo stesso ciclo. Quelli che vedete in rosso vengono chiamati una volta sola, ovvero vengono chiamati quando il componente viene creato, va bene? Il componente viene creato, viene inizializzato, basta. Mentre invece quelli in verde vengono chiamati ogni volta che succede qualcosa. Abbiamo ng onChanges. OnChanges vuol dire durante i cambiamenti, perciò il nostro componente è sempre alla ricerca di cambiamenti, è sempre in ascolto, perché? Perché noi, come vedremo più avanti, possiamo interagire con i nostri componenti e possiamo dire, guarda, questo componente adesso è così, ma adesso cambia. Se prima questa lista mi mandava a schermo 5 card, come questa, magari, facciamo finta che è una chat, prima c'erano 5 card che erano i messaggi, adesso ne è arrivato un altro, quindi il componente ha subito un cambiamento. Perciò onChanges, e onChanges cosa fai? Mi devi fare il controllo, per capire cosa è cambiato effettivamente, dopodiché mi devi fare un check sul contenuto, per vedere se è cambiato qualcosa, e poi mi fai il contenuto sulla view, quindi sul risultato finale. E quindi, vedete come ogni volta che succede qualcosa, subito dopo viene chiamato, vedete, questo è sull'init particolare, questo è appena il contenuto viene inizializzato, appena il contenuto è stato controllato, appena la view è stata inizializzata, appena il contenuto è stato controllato. Questo ciclo di vita ci permette di andare a fare cose mirate quando succedono determinati eventi, quindi sui changes possiamo andare a cambiare qualcosa noi manualmente. Sull'init vogliamo andare a prendere i dati magari? Sull'init lo possiamo fare. Possiamo andare a fare qualcosa di specifico appena il contenuto è stato inizializzato, o appena la view, oppure possiamo fare qualcosa subito dopo i controlli, sia del content che della view. Oppure possiamo fare qualcosa sul destroy. Magari il nostro componente ha attivato, adesso ve la metto così randomicamente, seguitemi senza paura, sta ascoltando un observable, quindi ha fatto quella che si chiama una subscription, una sottoscrizione, come se fosse una sottoscrizione a Netflix, il nostro componente ha fatto una sottoscrizione, però se il componente viene distrutto, noi vogliamo toglierla questa sottoscrizione, ok? Altrimenti va in eterno, è come se vi muore qualcuno che ha aperto la sottoscrizione con Netflix, la persona muore e la sottoscrizione continua ad andare avanti all'infinito. No, vogliamo che qualcuno si prenda carico, guardi, mi è morto il parente, potete non continuare a scalarmi i soldi dal conto bancario, tanto non lo guarda più nessuno. Ok, stesso discorso. Quindi ad ogni punto possiamo andare a vedere cosa sta succedendo e fare cose specifiche, ok? Quindi questo è il ciclo di vita. Per ricapitolare, viene inizializzato il componente, dopodiché viene inizializzato il contenuto, viene inizializzata la view, e poi muore il componente. All'interno ci sono tutti i vari check, ma soprattutto siamo in attesa sempre di cambiamenti. Ogni volta che c'è un cambiamento, noi facciamo il controllo, va bene? E rifacciamo i controlli su content e view. Questo è quanto. Adesso noi qua abbiamo il nostro componente, ma prendiamo Angular, e cominciamo effettivamente a buttarci dentro tutto quello che ci serve per fare questi controlli. Allora cominciamo con un bel console.log, e facciamo costruttore. Benissimo. Poi console.log, e mettiamo on, anzi facciamo direttamente ng on init, qua. Poi, chiaramente se avete bisogno c'è la documentazione, su Angular vi basta scrivere Angular Lifecycle Hook, questa è la pagina, e vedete che c'è tutta la documentazione, se avete problemi potete sempre tornare sulla documentazione, non preoccupatevi ovviamente. Mettiamoci qua, per implementare le altre parti del life cycle, quindi vogliamo intercettarle, scriviamo after, e vedete qua che abbiamo after view init, after view checked, after content init, e after content checked. Quindi, li prendiamo tutti, uno, due, ups, ho messo lo stesso, yes, andiamo a capo, after view checked, e poi prendiamo after view init, e poi facciamo do check, andiamo avanti con destroy, destroy, on destroy, ecco qua, ci dà errore, perché dobbiamo implementarli tutti, vedete, dobbiamo implementare l'interfaccia, queste sono interfacce, mi raccomando, quindi ecco perché ne stiamo implementando tante, non stiamo ereditando, ma stiamo implementando, quindi ci mettiamo qua, e andiamo sotto, correzione rapida, e implementiamo tutte le interfacce, non implementate, vedete, quindi le abbiamo implementate tutte, non sono in ordine, non è un problema, noi adesso prendiamo qua, e sostituiamo, anzi, facciamo così, tac, sostituiamo tutte, bam, perfetto, adesso copio, le copiamo, tutte, e facciamo partire il nostro componente, e poi on destroy, che qua non vedremo, perché non andiamo su un'altra pagina, ma non è un problema, salviamo, e se io prendo qua, vedete, attenzione, è successo qualcosa, vediamo un po', ecco qua, allora, abbiamo il nostro life cycle del componente, apro benissimo, allora, il costruttore, viene chiamato una sola volta, ovvero, quando prendiamo questo componente, se io vado su app component, e moltiplico questo, salvo, vedete, che ci ha dato due costruttori, perché? perché è un costruttore per ogni componente, quindi ogni componente, ha il suo life cycle, le due cose non sono unite, puliamo, perché se no ci confondiamo, togliamo, voglio solo farvelo vedere come ogni volta, chiaramente, viene costruito un componente, ex novo, perciò abbiamo il costruttore, chiaramente, è una classe, il nostro componente, ha un costruttore, dopodiché, ng, on init, chiaramente, deve essere inizializzato, il componente, dopodiché, al check, l'abbiamo visto, vedete, on init, do check, ovvero, fai vari controlli del caso, se per caso abbiamo delle regole, sul check, le andrà a rispettare, in questo caso, non abbiamo niente, dopodiché, abbiamo, ng, after content, init, quindi, non appena il contenuto, è stato inizializzato, questo è il componente, in generale, questo è il contenuto, va bene? Il contenuto viene inizializzato, e poi viene controllato, e ogni volta, noi abbiamo, l'appiglio, look, l'amo, a cui possiamo agganciarci, non appena ha finito di fare queste cose, after vuol dire dopo, quindi, dopo che il contenuto, è stato inizializzato, dopo che il contenuto, è stato controllato, va bene? E qua, vi ritrovate, vedete? Check, init, check del content, adesso dovremmo avere, view init, e view check, perciò andiamo qua, view init, e view checked, benissimo, dopodiché, non appena ha finito, il componente fa un altro controllo, perché i controlli, sono costanti, non appena succede qualcosa, quindi, ha finito tutto, ha finito di inizializzare tutto, si fa un altro check, va bene? Quindi, ho fatto il check qua, in generale, allora devo farlo anche del content, e della view, perciò vado qua, ed effettivamente content, e view, succede qualcos'altro, per caso, ripeto, non l'abbiamo ancora fatto, ma andremo a scambiare dati, tra i vari componenti, in qualche modo, con eventi, service, eccetera, eccetera, il componente ogni volta, subirà dei cambiamenti, il nostro componente è sempre, all'ascolto per dei cambiamenti, perché funziona, funziona così le applicazioni single page, sono componenti che stanno sempre allerta, ok? Perché devono essere collegati in qualche modo, quindi stanno sempre allerta, e continuano a ceccare, non appena c'è un cambiamento, può essere che ha finito l'inizializzazione, in questo caso, controlla, perfetto, ho fatto il controllo generale, faccio il controllo del content, faccio il controllo, della view, e adesso è in attesa, dovessimo fare qualcos'altro, riparterebbe, ng2check, after view content, after view check, ok? Da qua, se per caso ne avessimo, un menu, tipo quello di Angular, che abbiamo visto nella documentazione, e ci spostassimo su un'altra pagina, questo componente, verrebbe distrutto, di conseguenza, arriverebbe, ng on destroy, va bene? Quindi questo è il ciclo di vita del componente, voi ricordatevelo come, un componente, nasce, cresce, muore, ma in realtà, nel frattempo, fa anche tanti controlli, e ogni volta che ricontrolla, ricontrolla, il content, e la view, e basta, voglio che vi portate a casa, questo macro concetto, perché, perché un componente non è statico, non è lì e basta, un componente fa cose, sotto in background, di cui noi non ce ne rendiamo conto, ma che ci serviranno, perché, più avanti, vi renderete conto come, sull'init faremo determinate cose, sul costruttore faremo determinate cose, andremo a fare magari cose, after content init, o after view init, quindi non appena finito di caricare tutta la view, andremo a fare qualcos'altro, quante volte magari avete lavorato con javascript, o addirittura jquery, e avete aspettato che tutta la pagina, tutto il document, abbia caricato, in questo caso, noi magari vogliamo aspettare, che tutto il componente, abbia caricato, per una qualsiasi motivazione, va bene? Questo è quanto, nel prossimo video, cominciamo a parlare del data binding, ovvero il binding, è il collegamento, tenere collegate due cose, quindi andare a collegare, i dati ad un componente, ok? Per ora è tutto, maledettamente, arcodato, ma Angular è bello, così come gli altri framework, javascript, sono belli per la loro dinamicità, va bene? E per quanto possono essere generici, durante l'utilizzo, quindi, impareremo come si fa, pian piano. Per oggi è veramente tutto, sotto in descrizione trovate il link, al secondo canale, sito, e come supportare il canale, io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao!